Ciao ragazzi, io sono Lion, per tutte le persone che ti stanno chiedendo come possiamo vivere senza il petrolio. Per questo vi risponderà mio papà, Angelo Consoli. Allora, saluto tutti quanti, gli amici di Bergamo, saluto Tiziano Petruzzi, i suoi ragazzi del Solar Lab e tutti i partecipanti a questa manifestazione con Walter Huber sull'idrogeno. Come possiamo vivere senza petrolio? Con l'idrogeno. Jeremy Riffin già ce lo spiegava nel 2001 e comincerei questo mio intervento che sono costretto a fare in video perché purtroppo non mi è stato possibile perché sto seguendo mio figlio in un tour promozionale in tutto il paese e non mi è stato possibile essere con voi. Avrei salutato con grandissimo piacere, vi ho visto con grandissimo piacere Walter Huber ma ci saranno sicuramente altre occasioni. Ecco, Riffin ci ricorda che il petrolio, soprattutto, dice la canzone di mio figlio ci vogliono uccidere con il petrolio, che significa? Significa che il petrolio crea entropia. Il petrolio crea sulla terra disordine, crea inquinamento, crea l'alterazione dei valori chimici della biosfera e quello che il fisico tedesco Rudolf Clausius nel 1868 definì come entropia. Riffin ce la risume in poche parole come la seconda legge della termodinamica. Benché non possa essere creata o distrutta, l'energia cambia continuamente stato ma solo in un'unica direzione, da disponibile a non disponibile. Per esempio, se bruciamo un pezzo di carbone, l'energia rimane ma si trasforma in biossido di zolfo anidride carbonica e altri gas che si disperdono nello spazio. Nel processo non vi è alcuna dispersione di energia ma noi non potremo mai più bruciare di nuovo quel pezzo di carbone ricavandone un lavoro utile. La seconda legge della termodinamica afferma che quando l'energia si trasforma una parte dell'energia disponibile si perde nel processo e quindi non è più in grado di essere sfruttata per un lavoro utile. La perdita di energia utilizzabile è detta appunto entropia. Noi dobbiamo ridurre l'entropia sul pianeta perché il cambiamento climatico, l'inquinamento, la occlusione delle vie intestinali dei cetacei o degli uccelli dovuta al petrolio elaborato che diventa plastica, poi diventa scarto e viene buttato e si trova nelle isole oceaniche e così via. Tutto questo è entropia. Per uscire da questo modello energetico folle che ha prodotto entropia da sempre cioè la prima e la seconda rivoluzione industriale, l'era del carbone e l'era del petrolio è necessario adottare un nuovo modello economico. Questo nuovo modello economico è la terza rivoluzione industriale ed è un modello totalmente decarbonizzato ma non è possibile passare a questo modello se non si adottano delle tecnologie che permettono di stabilizzare i flussi elettrici prodotti dalle fonti solari. Questo perché le fonti solari, intendiamoci, sono più che sufficienti a sovvenire ai fabbisogni dell'essere umano e di una civiltà moderna. Se noi consideriamo che il sole inonda il nostro pianeta con una quantità di energia che è superiore ha di 15.000 volte quella che noi consumiamo ogni giorno quindi noi possiamo benissimo diventare post-carbon, off-carbon se riusciamo a sfruttare solamente un quindicimillesimo un solo quindicimillesimo dell'energia solare irradiata istantaneamente dal sole ogni giorno sulla terra. Se noi non riusciamo a fare questo ovviamente e purtroppo è la situazione nella quale noi siamo con i fossili, col petrolio, col carbone continuiamo a produrre entropia e continuiamo a produrre un'entropia che è anche sociale perché l'energia fossile ha bisogno di un'altissima intensità di capitali per essere sfruttate. Immaginate tutte le infrastrutture fossili gasdotti, oleodotti, grandi nuove petroliere pozzi di trevellazione, piattaforme petrolifere, raffinerie eccetera tutto questo presuppone un'altissima intensità di capitali e una bassa intensità di lavoro il reddito di questa economia quindi va a remunerare il capitale quindi va a concentrarsi in mano a quelle pochissime persone che hanno i capitali, che producono i capitali per poter fare e eseguire lo sfruttamento dell'energia fossile quindi è necessario passare a un nuovo modello che è un modello solare, basato sull'energia solare che invece è a disposizione di tutti ma questo nuovo modello basato sull'energia solare per funzionare al massimo ha bisogno di coprire i momenti di mancata produzione perché l'energia solare è discontinua il sole c'è di giorno, non c'è di notte il vento c'è soltanto in alcuni momenti e così via le principali fonti solari sono discontinue ma quando ci sono producono molta più energia di quella che ci è sufficiente che ci è necessaria per portare avanti le attività di una moderna economia quindi dobbiamo essere in grado di accumularla qui scatta il discorso dell'idrogeno l'idrogeno è il sistema di accumulazione tecnologicamente più disponibile e più conforme ai processi naturali l'idrogeno è l'elemento più diffuso dell'universo ci ricorda Rifkin in questo libro l'idrogeno è anche l'elemento che permette una volta se è prodotto, se è ottenuto dall'acqua quindi con l'accessione elettrolitica della molecola dell'acqua permette di utilizzare l'energia rinnovabile in un secondo momento quindi fa da accumulatore di energia rinnovabile fa anche da vettore di energia rinnovabile ci permette di trasportarla e utilizzarla in un posto diverso da quella dove è stata prodotta quindi l'idrogeno è uno dei pilastri della terza rivoluzione industriale di Rifkin questo pilastro però ha bisogno di un'espansione della conoscenza perché in questo momento non si può fare massa critica sull'idrogeno innanzitutto perché mancano le conoscenze sono pochissimi coloro che sono in grado di installare una cella combustibile un accumulatore di metallici una macchina, un elettrolizzatore una macchina per fare appunto la scissione elettrolitica dell'energia dicono alcuni critici interessati legati al mondo del petrolio sì però l'elettricità che noi buttiamo nel sistema di idrogeno è sempre inferiore a quella che ne ricaviamo quindi c'è una perdita termodinamica rispondo ma grazie qualunque trasformazione energetica subisce una perdita termodinamica è appunto la caratteristica dell'entropia con cui ho cominciato questo mio intervento quindi il problema non è se l'idrogeno ci permette di mantenere tutta l'energia rinnovabile che noi abbiamo immesso nel sistema è ovvio che c'è una perdita termodinamica che è intorno al 30-40% ma è di gran lunga inferiore la perdita termodinamica della combustione e della produzione di energia da fonti fossili che è invece estremamente più elevata perché si crea la dispersione termica la combustione crea un'enorme dispersione termica e basta vedere una lampadina incandescenza la maggior parte dell'elettricità che noi consumiamo per illuminare tramite una lampadina incandescenza va in calore tanto è vero che scotta non si può neanche toccare invece con le moderne luci fredde i led l'induzione elettromagnetica l'elettricità e per questo sono più economiche anche l'elettricità serve a produrre lumen non a produrre calore che in realtà non ci serve quindi la perdita termodinamica c'è sicuramente il problema è vedere quale fonte energetica garantisce una perdita termodinamica inferiore e le rinnovabili col sistema dell'idrogeno garantiscono certamente una perdita termodinamica inferiore quindi il discorso dei soloni, del petrolio, dei fossili ma l'idrogeno però l'energia che esce è inferiore all'energia che entra è un discorso interessato ed è un discorso da ciarlatani perché in realtà qualunque conversione energetica implica una perdita termodinamica ci ho detto l'idrogeno è sicuramente una tecnologia tutte le tecnologie dell'idrogeno sono delle tecnologie che conviene cominciare a studiare da subito perché altrimenti quando noi arriveremo alla industrializzazione delle tecnologie della terza rivoluzione industriale resteremo tagliati fuori saremo soltanto un mercato come è successo per esempio per i pannelli fotovoltaici quello che bisogna sapere è che in Germania esiste un programma che si chiama NOW National Organization for Wasserstoffen che sarebbe idrogeno in tedesco ebbene questa organizzazione NOW ha già ottenuto 40 miliardi di euro dallo stato tedesco per mettere a punto le tecnologie da portare sul mercato nella terza rivoluzione industriale loro, i tedeschi, coscientemente si rendono conto che stanno diventando che possono diventare il punto di riferimento economico e quindi prendere tutto il mondo come loro mercato ma cominciare dall'Italia, dall'Europa per le tecnologie dell'idrogeno quando invece noi potremmo svilupparle benissimo noi non saremmo dipendenti dai tedeschi quando saremmo dipendenti dai tedeschi anche per le tecnologie dell'idrogeno come lo siamo per il fotovoltaico dai tedeschi, degli americani, dai cinesi eccetera perché abbiamo rinunciato ad avere un'azienda nazionale che produce pannelli fotovoltaici così come abbiamo rinunciato anche se è un altro discorso ad avere un'azienda nazionale che produce telefonini, smartphone eccetera pur essendo noi i principali consumatori pro capite mondiali una scelta di politica economica folle ebbene quando la Germania sarà il padrone di questo mercato non ce la potremo prendere che con noi stessi siamo ancora in tempo a recuperare il terreno perduto e il tempo perduto grazie a anche modelli che resistono nel tempo come quelli che ci propone l'ottimo Walter Huber con il suo progetto idrogeno in Trentino Alto Adige abbiamo la possibilità di creare decine di migliaia centinaia di migliaia di posti di lavoro nei prossimi anni abbiamo la possibilità cioè di sfruttare l'alta intensità di lavoro delle energie rinnovabili dell'idrogeno delle smart grid e delle costruzioni a basso consumo energetico o ad energia positiva quindi è necessario per attuare delle politiche di terza rivoluzione industriale preparare innanzitutto l'industria avere un piano economico industriale che preveda anche le tecnologie dell'idrogeno cosa che è stata completamente abbandonata c'era soltanto nel governo Prodi era stato previsto dall'allora ministro Pecoraro Scanio ma poi è stato tutto spazzato via mentre ripeto i tedeschi stanno investendo pesantemente 40 miliardi di euro hanno già investito e prevedono investire entro il 2026 e poi bisogna investire pesantemente nella conoscenza quindi creare perché sono centinaia di migliaia di posti di lavoro che di figure professionali che ancora non esistono quindi le dobbiamo creare ci vogliono tecnici per gli elettrolizzatori come oggi ci sono tecnici di caldaie a condensazione ci vogliono tecnici per le smart grid tecnici per le fuel cell e così via e questi sono tutti posti di lavoro qualificati e non rilocalizzabili che non possono andare a finire in Cina perché l'impianto a idrogeno a casa mia dove c'è un 3 kilowatt sul tetto tu me lo devi venire a fare qui non posso andare in Cina a farmelo fare quindi per concludere voglio lasciare la parola all'amico Jeremy Rifkin che ci spiega che la rete energetica dell'idrogeno ci mette a disposizione un nuovo regime non inquinante che decentralizza e democratizza l'energia in modo che gli uomini possano vivere in comunità più piccole e disperse con minori possibilità di esercitare una pressione eccessiva sulla biosfera quindi democratizzazione e decentramento della produzione energetica ogni cittadino diventa un prosumer e l'importanza dell'idrogeno è questa che per permettere ai cittadini di diventare prosumer così come l'Unione Europea adesso sta dettando all'interno del pacchetto di direttive della cosiddetta Energy Union riprodurre energia su piccola scala da fonti rinnovabili e scambiarsela fra cittadini appunto i prosumer poiché l'idrogeno veicolo di energia è ubiquo e gli impianti di generazione a celle a combustibile possono essere collocati ovunque e connessi a una rete energetica estesa quello che dicevamo prima è possibile superare l'architettura centralizzata e gerarchica dell'era del petrolio nell'economia dell'idrogeno le attività industriali e commerciali si possono diffondere in modo più ecologicamente sostenibile permettendo una gamma maggiormente equilibrata di densità degli insediamenti umani quindi ci dice Rifkin che l'idrogeno ci permetterà anche di vivere in modo più umano di vivere in posti meno affollati meno spersonalizzanti meno alienanti nell'economia dell'idrogeno con la sua rete energetica decentralizzata e democratizzata ci ricorda sempre Rifkin è possibile stabilire insediamenti umani nell'ambito di bioregioni o ecoregioni o georegioni rispettando le modalità di insediamento delle comunità biochimiche sulla terra stessa l'integrazione delle comunità umane nella biocomunità crea un nuovo profondo senso di sicurezza inseparabile dalla salute e dal benessere della terra stessa creando un'architettura economica e sociale che riproduce in miniatura la diversificata fisiologia della terra quindi Gaia la terra che ha un sistema unico con tutto connesso offriremo alla nostra specie un mondo pieno di nuove possibilità favorevoli alla vita e vitali per loro stessa natura porremo così fine ci ricorda Rifkin in conclusione al lungo barbaro dominio della geopolitica fossile inaugurando un nuovo percorso per la creazione di una duratura politica della biosfera quindi se vogliamo passare da una geopolitica fossile di guerra basata sul petrolio e basata sull'altissima intensità di capitali e quindi l'impoverimento progressivo della maggior parte degli esseri umani a vantaggio di pochissimi eletti che detengono tutto il potere finanziario attraverso il quale possono produrre energia e vogliamo passare invece a una politica della biosfera che protegga il creato come ci dice Papa Francesco che appartiene a tutti è fondamentale sviluppare anche le tecnologie dell'idrogeno che sono quelle su cui siamo oggi più indietro specialmente qui in Italia grazie per l'attenzione e alla prossima